Sono io che sono inquietato Ma che cazzo Che cazzo Succede ragazzi Qui è peggio di Alien Peggio di Alien Isolation Ve lo dico io Ciao Rockers Come state? Veramente bene Bentornati nel canale Benvenuti a questo primo episodio di Soma Innanzitutto vi chiedo scusa Per la voce Che sarà un po' tenebrosa Un po' da lurch Ma purtroppo in questi giorni Sono stato un po' ammalato Però stoicamente sono qui a registrare Ragazzi Nonostante tutto Stiamo andando avanti Come sapete veramente bene Con Until Dawn Con Everybody Is Gone To The Rapture E ho deciso anche di inserire questo Soma Questo horror Sci-Fi Sci-Fi Hi-Fi Chiamatelo come volete Voi che sapete veramente bene Io sono Sapete tutti Un dientologo Ho deciso comunque di giocare Questo horror Perché C'è una garanzia E cioè Frictional Games Come sapete voi Veramente bene Sono i creatori di Amnesia Ma soprattutto Della saga di Penumbra Che io ho giocato Quando giocavo sui PC La cosa mi ha attirato Veramente tanto Siamo qua ancora Come piace a noi Di notte Giustamente Perché Gli horror game Sapete voi Che il gatto rock Li gioca di notte Perché gli piace Veramente Fare così Quindi ragazzi Premiamo questo Ix Benissimo ragazzi Quindi procediamo Nuova partita Vi dico subito Che non mi sono informato Molto Del gioco Perché a me piace Anche così Non spoilerarmi Troppe cose Mi piace giocare Diciamo così Abbastanza Ex novo In alcuni giochi Per esempio Su Fallout 4 Che sarà quello Che vi ripeto Diventerà Dal 10 novembre Il gioco numero 1 Di questo canale Invece Mi sto informando Parecchio E tra l'altro Vi annuncio Che un po' prima Dell'uscita del gioco Faremo Una piccola rubrica Che si chiamerà Road to Fallout 4 Dove vi darò Alcune piccole Anticipazioni del gioco Alcune cose Che vengono Piano piano La realtà È ciò Che si rifiuta Di sparire Anche quando Smetti di crederci Sangue Che cazzo è quello Sangue È verde Ashley Anche qua C'è Ashley Speriamo che non sia Una testa di cazzo Come quella di Until Dawn Che succede Che succede Telefono Chi è Che rompe Coglioni Al telefono Ah ok Prendilo E prendilo Ah Sì, sono qui Ciao, Simon Jera Sì, sono io Mi nome è David Munchie Abbiamo parlato prima Il scan del cervello Mi ricordo Ti sento Ti sento Sì, sì C'è un sogno È ancora un sogno Siamo ancora iniziato Per oggi? Sì, è C'è l'unosso C'è l'unosso Io voglio Ti chiederti Ti chiederti Il fluido di tracero Che ti senti Ci aiutare Mi aiutare A me capturare Un'immagine Deve Non ti preoccupare Mi ho capito Di un'unosso Ok Great Siamo vediamo In un paio Ok Siamo vediamo Ciao, ciao Ok Vediamo anche i comandi Non mi ho guardato tanto Sapete ragazzi Io sono così Mi butto un po' Sui giochi Ok Può essere Ma qui possiamo Prendere le cose E buttarle Che figata E beh Classico No ma questo è Praticamente La cosa bella Che mi è sempre piaciuta Così di amnesia Ma anche di penumbra Come vi dicevo prima Ragazzi Vedete L'interagibilità Con le cose Che c'è E che noi Le possiamo prendere E Fa vedere Tirare Proprio di brutto A computer Vedere 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 Ringraziamo nuovamente Di partecipare Alla nostra ricerca La scansione La scansione è venuta Al brazo Perché siamo ospiti Le nostre tempistiche di accesso Saranno un po' Imprevedibili Cercheremo di programmare Una serie di scansioni Per sabato Se vuoi L'avrò La conferma Per dire Saluti David Moshi Ok Ok Chi è questo? Samurai Samurai Mettiamolo Dove Mi piace Qua Il Samurai Ci sta veramente bene Eccolo lì Ah già Dobbiamo trovare Fluido Edo sta Frigo Cosa ci abbiamo Qua nel frigo Noi La pizza La pizza La pizza Anche la bandiera italiana Capito Però A cagare Già Gioveva girare Tre ore Qua Questa Quella che usa Lo t-youtuber Ma vaffanculo Ma vaffanculo Possibile che non ci sia Da nessuna parte Quel fluido Stiamo scherzando Qua Porco Due A qualche parte Deve essere Ciccibelli There it is Ah E prendilo Però Cazzo Ah Cosa ne devo fare Di questo adesso Lo devo bere Gusto di merda Detto proprio così Eh Vediamo un po' Se ci fa uscire Adesso There we go Ok ragazzi Direttamente in metro Siamo Vabbè Certo Direttamente in metro Eccolo qua Il classico Barbone C'è sempre Non è una vera Metropolitana Se no c'è il barbone Oh eh Ciccio bello Non ti vedo Veramente Bele Che è Che cazzo È che telefono Oh Shit Che cazzo You know how we sell calendars? You should get one. I have one! I just never write anything in it. Maybe I'll swing by later. Depends on how long this scan thing takes. That's cool. I'll just get Chris to help me out. Anyway, we're getting a new minion today. Thought you might want to come by and say hi. Replacing Ashley already? Hm. That was quick. No, it really wasn't. We've been understand for weeks, and you know it. I guess it's been a while. It really has. Like, a month already? Anyway, get the scan done, get good news from the doctor or whatever, come down to the store, say hi to the new guy, and lunch is on me. Thanks, Jesse. I really appreciate your support. Don't want to replace another minion. That's not funny. It's a little funny. No. No, it's not. Bye, Jesse. See you later. I'm beautiful. I'm beautiful. I'm beautiful. I'm beautiful. I'm beautiful. I'm beautiful. You're beautiful. It's a little too long, but I'm beautiful. So, here, where we're finished. Hello? Dr. Munchy? Dr. Munchy, right? We're looking for the doctor here. There's no one here. Where is everyone? I thought this place would be busy. Where is everyone? We've got a few minutes. Paul, where are you? Have we heard Simon and Janet? We're starting. I've heard you, you're already here. You're already here. Call me immediately. Ciao Polo, ho parlato con pace, ci lasciano nel laboratorio questa settimana, ragazzi è un po' lunga, la posta è inviata, siamo chiusi fuori, come siamo chiusi fuori? Ah, qui ti puoi anche corrigare, PC, Toronto, sole, riflette, dai, carino, carino, tutto molto bello, però noi procediamo, ragazzi, che qua, se no ci perdiamo, qua giustamente, si, vado a vedere se, come dico io, 666, non funziona, un po' c'è provato, il gatto rock ci prova sempre con 666, ma non fu non sia, giustamente la combinazione sarà scritta da qualche parte, ci toccherà cercarla, oh, oh, ah, qua già c'è un numerino qua, 2501, tu come la vedi, guarda caso, secondo me, vedrai che funziona, vediamo, no, ma non voglio prendere quello, voglio chiudere la porta, bravo, allora, qua abbiamo 2501, proviamo un attimo, 2501, here we go, guys, apriti sedano, ok, wow, ok, qui, chiuso, blocchiato, serato, ferme, dove vuoi andare, questa aperta, questa, chiusa, quella aperta, ma è buia, tu come la vedi, ah, qui c'è il tipo di lo fa, però, aspettate un attimo, andiamo a vedere qui com'è la faccenda, scusa, uh, tutto buio qua, ragazzi, che cazzo, la luce no, eh, ah, ok, che è sto bordello, oh, un abitatore, trapano, che è, via, butta via tutto, pc, tutta roba qua, che sta a fare, scansione del cervello di, di Dupre, c'è un cazzo, il tuo vuoto, ovviamente, vabbè, dai, andiamo a vedere che secondo me era qua, Fritz, ah, eccolo qua, infatti, oh, hi, didn't hear you come in, Simon Jarrett, right? Dr. Munchy? Well, it's, uh, just Mr. Munchy, but I'm working on it, actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg, we hope to design a gentle way to work with brain reconstruction, to help people like you. Oh, did you, uh, take the tracer fluid? Yes, yes I did. Great, well, we can start whenever you're ready. Passiamo a cominciare, a fare cosa? C'è qualche cazzata qua, secondo me, ah, cicci belli. What? Minchia, però già, oh my god, un po' come either one che ti sedevi sulla sedia, uh, uh, mamma mia, what the fuck? Stai guardando che c'è nel mio cervello e non ti conviene veramente bene perché c'è un sacco di what? All right, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Ronald Canada, David Munchie, born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Well, this hurt. It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Cheese. Let's know. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Cheese! Fottuto coglione! Stai prendi per il culo? Uh, oh, porca... Che cazzo? What happened? Eh, è buio. Si vede un cazzo, ragazzi. Uh, oh, oh. Hello? Mr. Munchie? Dove cazzo so, la guai? Uh, oh. Did something go wrong? Oh, merda. Che è sta luce? Questo non è divertente. Che devo fare per questo? Oh, merda. Cazzo? Dove sono qua? Cazzo, cosa sono queste? Merda. Con soldi di assistenza, inserire, omni tool, per accedere. Con soldi di assistenza, installatore, chip omni tool. Crea, modella e ottimizza il tuo omni tool. Lo strumento di assistenza di assistenti completamente personalizzati. Cassetto degli attrezzati. Cassetto degli attrezzi. Ho capito, però... Dove sta quell'affare che io devo prendere? Non funziona. E dove lo prendo, questo benedetto omni tool che mi serve? Eh, ragazzi. Do lo prendo? Carca miseria. Qua già giriamo, qua. Automatizzato. Sbloccare il terminale dalla console di assistenza. Qua cazzo? L'unchia succede qua. Mi sto cominciando a sclerare, ragazzi. Fatemi tirare qualcosa perché sto già un cazzato. Non è che si rompe questo. Magari si rompe. Aspetta un po'. Aspetta. Che faccio? Ah, porco, due. Oh, dove vado qua? Dovado.com A parte che io non so proprio veramente bene dove cazzo sono qua io. A parte che io non so proprio perché 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 io non so